Cazzuoli buongiorno, ciao a dolcezze, ciao a tutti, nuovo video di Halloween, assaggio patatine di Halloween dell'Idol c'erano anche alla paprika, queste sono una novità, le ho comprate l'anno scorso, non ho fatto il video quest'anno nel 2024 facciamo il video assaggio alla paprika, non le ho comprate quest'anno, c'erano anche l'anno scorso non mi piace la paprika, di solito come gustano le patatine, queste qui sono di ketchup, sono una novità appunto, vedete a forma di fantasma, c'è di fantasma, a forma di vampiro buon Halloween, buon Halloween, allora, oh mamma mia sono piccolissime dalla plastica sembravano tanto grandi, guardate come sono piccole, vedete, piccolissime, cioè vi faccio vedere, pensavo fossero più grosse, vabbè per 1,99 euro non si può pretendere, però sono veramente piccolissime, c'è roba in miniatura, ragazzi uno spray 100 grammi, a 1,99 euro a l'Idol, le vendono, le trovate ancora sicuramente, questo video arriverà prima di Halloween, sono troppo piccole, vabbè, uno sfizio, non penso di ricomprarle, si sono croccanti, si sciogliono in bocca, sono morbide, hanno poco gusto di pomodoro, sinceramente, di ketchup, sanno poco di ketchup, però, per una festa per bambini va bene, vanno bene, voi le avete comprate, queste patatine, sono le 4, facciamo merenda, facciamo merenda insieme, ho dimenticato di mettere lo sfondo di Laura, scusate, il prossimo video lo metterò uno di due sfondi che mi ha regalato Laura l'anno scorso, sta uscendo il sole fuori, io pensavo fossero più grandi, sono veramente piccolissime, cioè, guardate, una roba allucinante, bambino, ketchup style, snack vampire, niente di gratante, direi, non le ricomprerò, però per un video ASMR va bene, se avete dei figli piccoli, volete fare un aperitivo, vanno anche bene, anzi direi vanno benissimo, costano poco, quindi va bene, così, se si Startà bene, a di ovvi che piu dei sottotitoli , si lo si busca, bene, se io quest'anno spero di uscire anche se Halloween non mi piace come festa voi cosa farete di bello quest'anno ad Halloween si attaccano un po' ai denti e sanno poco di ketchup secondo me personalmente però vabbè vegetarian è carina la confezione verde col pomodoro che schizza e lo spaventa passari però non sono niente di che secondo me per me non sono niente di che sono meglio le Pringles ecco se stiamo a guardare se scegliamo e Mi sono dimensi che da andare a prenderla acqua vi saluto le ho tutte attaccate i denti adesso queste patatine vado a bere io ho una setta allucinante anche se non sono tanto salate meno male però hanno poco gusto lo ho già detto scusate le ripetizioni vi saluto a presto ragazzi se l'avete provato commentate se vi piacciono buon halloween a chi lo festeggia buona giornata buon weekend buona giornata a tutti a presto a presto